Ok ragazzi sono Marco Saccoccio e oggi sapete che cosa andremo a fare? Andiamo a fare un bel video molto particolare, voglio andare a farmi delle single summon, allora Due, due, allora vediamo un po', voglio farmi proprio una di queste che è la leggendare summon Odio cidra gustono, voglio trovare qualcosa Io voglio qualcosa, voglio, voglio Forza, forza Logu, Tenzing e basta Transforma il suo versiano, quindi è un buon segno Primo, secondo, no, no, niente, secondo, prossimo, magari se si spacca lo schermo Che cagato, ho trovato un inutile Bardak Ovviamente smettere di cercare Andiamo su, Sammo, Sammo, Sammo Ok raga, raga eccoci Eccoci Beh, mo, vedi Boh, vaffanculo Vorrei provare a trovare qualcosa qua, perché mi servirà Beko Ultraistinto Però non lo trovo, non troverò mai niente qua Vorrei trovare Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4, Godens Ma non vengono questa carta, aspetta che è sfocato Kriligono, vai, vai Non si trasforma, sì, sì, vabbè Niente raga, non ho trovato un cazzo, vabbè ci vediamo al prossimo video Grazie 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 Grazie